Bentornati su MyFootballGersy. Questa stupenda maglia è ovviamente del Barcellona, la terza, una maglia retro degli anni 2016-2017. In versione fan, la maglia di chi, se non di Messi? La maglia di chi, se non di chi, se non di chi. Stupenda! Nella mia classifica avrebbe preso 5 stelle, non do più le stelle, ma questa è veramente, veramente molto bella. Il tessuto è molto confortevole, le cuciture sono corrette, i colori perfetti, un costo accettabile, l'avete visto, con degli ottimi tempi di spedizione. Questa è arrivata in 20 giorni. Ora vi lascio la parte finale. Prima però, mi raccomando, iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti quale altre maglie vorreste vedere. Per oggi è tutto, alla prossima!